Penso che molti di voi conoscano le varie teorie e racconti che circolano in rete riguardo il lato oscuro della Disney Corporation. Parchi divertimenti abbandonati con presenze misteriose, cortometraggi mai visti e nascosti da far uscire di senno, messaggi subliminali e satanici disseminati ovunque nei film. Io, affascinato da tutto questo, decisi di passare ore e ore a settacciare il web, cercando qualcosa che non fosse ancora stato visto o detto riguardo alla casa di animazione più grande al mondo. E non trovai nulla. Decisi così, allora, di osare di più, di cercare nella parte di internet più profonda e oscura, dove nulla poteva essere censurato o nascosto. Il Deep Web. Scritti a innumerevoli forum e postai mille domande. Nessuno ne sapeva di più di quanto si potesse trovare liberamente su internet. Ero oramai sul punto di rinunciare. Che la Disney avesse finito tutto il suo potenziale oscuro. Ma fu allora che ricevetti questo messaggio da un utente del forum. Un brivido di eccitazione mi percorse la schiena. Lessi l'oggetto. Mickey Mouse Club. Certo, conoscevo l'anonima trasmissione che andava in onda su Disney Channel. Lo show consisteva nel trasmettere cartoni animati, documentari e telefilm a puntate. Inoltre, a volte, venivano invitati ospiti famosi. Da piccolo non mi perdevo una puntata. Ma ci doveva essere qualcos'altro in quel messaggio. O almeno, lo speravo. Lessi l'utente che mi inviò il messaggio. Perf 783. Sino ad allora mai notato nel forum. Apri il messaggio e quello che mi trovai davanti fu questo. All'inizio non capì. La foto era di bassa qualità. E riuscivo a distinguere malapena i volti. Le uniche cose leggibili erano la scritta grande, centrale, Mickey Mouse Club. E le altre due più piccole ai lati, Walt Disney's e Mouse Keaters. Ovvero, i moschettieri di Topolino. Capì così che in quella foto c'era il primo cast completo del Mickey Mouse Club. Per chi non lo sapesse, nel programma Mickey Mouse Club è sempre presente un cast, formato per la maggior parte da ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, chiamati Moschettieri di Topolino. E da due adulti che fungevano da presentatori, chiamati Capi Moschettieri. Grazie anche a qualche ricerca online, riusci a reperire tutti i loro nomi, tra cui quello dei due uomini in alto ai due lati, Roy Williams e Jimmy Dodd. Trovai anche foto che li ritraevano in balli, canti e giochi durante lo show. Non so perché, ma era tutto così... inquietante. Capivo che c'era qualcosa che non andava. Non capì invece il perché dell'invio di quella singola foto, reperibilissima online, da parte di Perf783. Spinto dalla curiosità sempre più crescente, gli chiesi per quale motivo mi avesse inviato quella foto e che cosa volesse dire. La risposta fu immediata. Biglietto per lo spettacolo speciale del Mickey Mouse Club al carter Efiader. Erano le uniche parole del messaggio, accompagnato da questa foto. Ero sbalordito. Il carter Efiader è, o perlomeno era, un teatro di San Diego famoso per i suoi spettacoli, se così possiamo definirli, un pose. Insomma, un teatro per soli adulti. Fu chiuso innumerevoli volte, per gli enormi giri di droga e prostituzione, oltre a casi di stupro e omicidio che avvenivano all'interno. Ed innumerevoli volte fu riaperto. Un incendio per cause sconosciute lo fece chiudere definitivamente nel 1963. Tuttavia il teatro è ancora lì, o meglio, quello che ne rimane. Senza piani di demolizione o ristrutturazione. Solo nel 1987, un ricco magnate di San Diego si accollò il costo della ristrutturazione interna e della riqualificazione dell'edificio, in nome del bene dell'intera città. Ma i lavori cessarono all'improvviso. Il 16 luglio 1988, senza alcun apparente motivo. I più dissero che fu una mancanza di fondi, altri dissero che fu l'aura maligna che il teatro emanava, a far cessare i lavori. Insomma, un posto non adatto ai bambini, né ora né in passato. Quindi, com'era possibile che il Mickey Mouse Club avesse fatto uno spettacolo in quel teatro? Impossibile. Eppure la foto del biglietto era lì, sullo schermo del PC, con la scritta Carteri Feader in bella mostra, in rosso, con pure Topolino che le indicava. Provai a cercare online la foto di quel biglietto, ma non ve n'era nessuna traccia. Neppure di un fantomatico spettacolo del Mickey Mouse Club al Carteri Feader. L'unica cosa che mi sembrava logica era che la foto fosse stata modificata. Decido così di chiamare un mio amico smanettone, che se ne intende di queste cose, facendo il lavoro di foto editor. Almeno sarei andato sul sicuro. Era come chiedere ad un cuoco di prepararmi una pasta, tanto per fare un esempio. Il mio amico arrivò a casa mia. Gli mostrai la foto. Lui la analizza con i suoi programmi più strani e disparati, ed infine mi emette la sentenza. Perfettamente pulita. Nessuna traccia di modifica a computer. Un brivido mi percorse la schiena. Ma decido di rimanere calmo e di ringraziare il mio amico, promettendogli di offrirgli una birra la prossima volta che ci saremmo visti. Non so più che cosa pensare. Perché il Mickey Mouse Club avrebbe dovuto tenere uno spettacolo al Carteri Fyader, simbolo cittadino del peccato e della trasgressione? Decisi così di riscrivere subito all'utente perf783 per trovare risposte alle mie domande. Ma quando entrai sul forum, di lui non vi fu più traccia. Ora, la casella in cui mi era arrivato il messaggio di Perf783 appariva così. Provai ad aprire il messaggio, ma ogni volta mi compariva una schermata di errore. Non sapevo più che cosa fare. Ero impaurito, ma eccitato allo stesso tempo. In fondo, stava succedendo quello che cercavo da tempo. E il protagonista, l'eroe buono e impavido che smascherava la cattiva e malvagia Disney, ero io. Ma, in fondo, che informazioni avevo? La foto del primo cast del Mickey Mouse Club, facilmente reperibile online, e la foto di quel biglietto, il Carteri Fyader. Ma non è lontano da casa, in fondo. Potrei provare a farci un salto e chiedere informazioni, esplorare il luogo. Insomma, una gita fuori porta che mi distraga un po' dai miei studi non mi farà sicuramente male. Pensai. Mai cosa fu più sbagliata. Decisi così di andarci l'indomani. Preparai un taccuino su cui annotare eventuali informazioni, la fotocamera ed un piccolo pranzo al sacco. Non ero mai stato così felice al pensiero di una gita. In fondo, studiando giornalismo, curiosare era la mia passione. Prima di andare a letto, riguardai le foto del cast. Visi angelici e vispi, da classici bravi ragazzi, ma lasciavano tutti un senso di tristezza, di malinconia. Come se quei bei volti felici e sorridenti fossero una maschera da indossare per lo show, e dietro invece si celasse un volto triste e sofferente. Quella notte dormì con difficoltà, in parte dovuta all'eccitazione, in parte dovuta a... Non lo so. Forse malinconia, solitudine o disagio, chi lo sa. L'indomani arrivai nei pressi del teatro e chiesi subito informazioni all'agente locale. Molti risposero con le cose che già sapevo, prostituzione, droga, eccetera eccetera. Altri si limitarono a dirmi di non saperne niente o di non averne voglia di parlare. Un po' deluso, per la prima parte delle ricerche, decisi così di recarmi al Carteri Fieder. La cosa che mi colpì subito fu l'aspetto esteriore. Tutto sommato era in buono stato. Incoraggiato dall'aspetto dell'edificio, entrai. Un senso di disagio mi percorsi il corpo. L'ambiente era freddissimo, sporco, lasciato l'abbandono. L'esatto posto dell'aspetto esterno. Decisi di scattare qualche foto. Nonostante l'aspetto emancipato, il teatro trasudava di energia. Avete presente quando si dice C'è l'elettricità nell'aria? Ecco, quella frase penso possa riassumere meglio quello che provavo in quel momento. Mi avvicinai verso il palco, scattai alcune foto, così, giusto per documentare un po' la mia gita, finora abbastanza deludente. Le luci del teatro si riaccesero di colpo, chissà dopo quanti anni. Il sipario divenne di un rosso acceso, quasi sangue. Un faretto illuminò un angolo del palco. Il teatro sembrava essere stato messo nuovo. E poi... Apparvero loro. Credetemi se in quel momento riuscì a mantenere la calma. Mi sembrava tutto così... Perfettamente logico. Mi sorrisero e mi salutarono. Io contraccambia il saluto. Poi Topolino cominciò a parlare. Oh, ciao, 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 amico! Sei qui per lo spettacolo? Io, in uno stato di trance, feci segno di sì con la testa. Allorché Topolino mi rispose... Beh, ci sei solo tu! Dobbiamo aspettare tutti gli anni prima di iniziare! Ah! E dopo aver detto questo, scomparve. Assieme a Minnie. Nel nulla. Come dissolvendosi. Il teatro ripiombò nel suo stato di emancipazione. Era... Era come se mi avesse rodato un colpo in testa. Quando mi svegliai dal mio stato di trance, realizzai quello che era appena successo. Era impossibile. Non potevo averlo visto. Doveva, e ripeto, doveva trattarsi di un'allucinazione. In questi giorni il mio cervello non ha fatto altro che pensare alla Disney e ora, grazie anche alla stanchezza accumulata, ha rigettato tutto fuori. Eppure ricordavo tutto così... perfettamente. Le luci, il sipario e... l'oro. Avevo tutto impresso come una fotografia... nella mia mente. Dovevo andarmene. Che fosse successo qualcosa o no, in quel teatro tirava una brutta aria. Non prima però di aver fatto almeno una foto del teatro visto dal palco. Almeno sarebbe stata una foto davvero suggestiva. Magari, se fosse venuta bene, avrei potuto anche esporla ad un concorso di fotografia. decisi così di calmarmi e mi diressi verso il palco. Arrivato, scelsi l'angolo adatto. Impostai i vari filtri e regolazioni della fotocamera e mi preparai a scantare. Ma qualcosa mi toccò la spalla. Ero paralizzato. Stavolta ero lucido, non c'erano dubbi. Qualcosa aveva davvero toccato la mia spalla. Ma non avevo il coraggio di girarmi. Il mio unico pensiero fu quello di correre dritto davanti a me, senza voltarmi, e allontanarmi il più presto possibile da quel posto. Ciao, sei qui per lo spettacolo? Annette, stai zitta e lascia in pace il signore. La rimproverò un'altra voce. Erano le voci di due bambine, o al massimo di due ragazzine di 14 o 15 anni. Sembravano tristi dal tono di voce. Impaurite. Non so il perché, ma sentivo il bisogno di aiutarle. Mi girai. Erano loro. Me lo sarei dovuto immaginare, dopo tutto. Le loro facce erano uguali a due ragazzine nella foto del primo cast del Mickey Mouse Club, ed inoltre indossavano i classici completi usati durante lo show televisivo, ovvero gonna e maglietta bianca, con scritta su il proprio nome e le immancabili orecchie di Topolino. Non c'erano dubbi. Erano due Mouse Eaters. Una di loro mi rifece la domanda. Allora sei qui per lo spettacolo? Beh, dicendo di no con la testa stavolta. Come prima ero in uno stato di semi-incoscienza, e tutto mi sembrava ancora perfettamente normale. Come se stessi parlando con quelle ragazzine in un parco giochi, invece che in un teatro abbandonato allo scatafascio. Comunque, dopo aver risposto negativamente alla loro domanda, incominciarono a parlare tra loro. Vedi, e come ti avevo detto io? Questo non è venuto per lo spettacolo. Deve essere il fotografo. Già, hai ragione. La platea è ancora vuota. Spero che non venga nessuno. Lo sai meglio di me, Annette, che è sempre pieno. Mi rivolsero lo sguardo. Ci puoi fare una foto? Disse quella che, in base al nome sulla maglietta, sembrava essere Annette. Allora, in stato di trance, contento di accontentare le due ragazzine, presi la fotocamera e scattai. Loro si misero in posa come facevano spesso durante il loro show. La foto che ne uscì fu la seguente. Ero perplesso. Nonostante il mio stato di semi-incoscienza, conservava ancora un poco di ragione. Perché la mia fotocamera ultramoderna avrebbe dovuto scattare una foto in bianco e nero. Loro si avvicinarono a me e guardavano il piccolo display della fotocamera. Risero. Provai una grande tristezza per loro. Si vedeva che dietro i loro volti felici e le loro risa si nascondeva qualcosa. Sei sorpreso che la foto è in bianco e nero, eh? Disse una. Io annui. Beh, è ovvio. Qui si è fermato tutto. Non capì il senso di quella frase. E non lo capisco tuttora. E forse... non lo capirò mai. All'improvviso si incubirono. Doren, è ora di andare. Altrimenti il signor William si arrabbierà. Detto questo, si girarono e si incamminarono verso il fondo del palco. Uscì dal mio stato di trance. Ma anche a mente lucida non provavo paura. Solo un insieme di emozioni che non saprei ben definire. Diciamo un mix tra tristezza e dolore. Le guardai allontanarsi. C'era qualcosa che non andava. Perché erano così tristi? Perché erano così impaurite? Doveva esserci sotto qualcosa. qualcosa di brutto. E io dovevo sapere. Dovevo aiutarle. Aspettate! Dissi mentre loro erano quasi giunte sul fondo del palco. Si voltarono. Mi incamminai verso di loro. Fino ad averle di fronte. Vuoi sapere dello spettacolo? Vero? Disse Doren senza guardarmi in faccia. Con lo sguardo rivolto verso terra. Ti diremmo tutto, ma tu non ti dovrei inire alla folla. Disse Annette, senza lasciarmi il tempo di rispondere alla domanda precedente. Prometticelo! Non diedi peso alle loro parole e promisi, impaziente di sapere riguardo allo spettacolo. Ora quello che riporterò sarà il dialogo tra le due ragazzine e me. Purtroppo non ho potuto registrarlo e quello che ho scritto è basato interamente sulla mia memoria. Tutto iniziò quando, dopo una normale puntata del Mickey Mouse Club, venne a trovarci il signor Disney. Eravamo tutti eccitati. Era un uomo alto che incuteva paura e soggezione, ma sapeva di essere gentile e premuroso. Insomma, sembrava una brava persona, autoritaria ma gentile. Ricordo che la prima volta che ci vide, regalò a tutti noi un papazzo di topolino. Le visite si fecero sempre più frequenti e regali sempre maggiori. Finché, un giorno, lo vedemmo allontanarsi in un angolo a confabulare con il signor Williams e il signor Dodd. A un certo punto, il signor Dodd uscì dallo studio dicendo brutte cose al signor Disney. Non lo vedemmo più. Mai più. Chissà che fine ha fatto il signor Dodd. Era così premuroso. Passata neanche una settimana da quell'episodio, il signor Disney ci fece una strana domanda. Davvero inaspettata. Vorreste avere uno spettacolo teatrale tutto vostro? Ho impresso quelle parole nella mia mente. A quei tempi il mio sogno era quello di diventare una star del teatro, come il resto degli altri ragazzi. Sì, era già un sogno essere in tv, ma il teatro era tutt'altra cosa. Accettammo tutti senza pensarci due volte. Che enorme sbaglio che facemmo. Passarono alcune settimane e finalmente arriva il giorno dello spettacolo. Mi ricordo ancora il viaggio in autobus che fecimo tutti assieme per arrivare qui a San Diego. Urlavamo, cantavamo, non stavamo un attimo fermi. Eravamo eccitati, felici, liberi. Eravamo il ritratto della felicità. Arrivamo a teatro. Una cosa che mi colpì subito fu la completa assenza di manifesti pubblicitari riguardo al nostro spettacolo. Anche se, complice l'emozione e l'agitazione, non ci dite molto peso. Ricordo anche la tensione e l'euforia che alleggiava dietro il sipario. C'era un gran vociare. Evidentemente sembrava esserci il tutto esaurito. Da lì a qualche secondo saremmo stati tutti in scena. Si aprì il sipario. E poi? Che cosa successe? Entrammo. Quasi tutto il pubblico indossava una maschera di topolino. Erano quasi tutti adulti, se non qualche ragazzino che di sicuro era prossimo alla maggiore età. Ad un lato del palco c'era un uomo grasso, con i capelli lunghi e il volto incappucciato. Non capivo, era tutto così strano, così inquietante. L'uomo incappucciato si diresse verso Bonnie, una delle ragazzine del gruppo. La prese per un braccio e la portò verso il centro del palco. Il pubblico mise un vuoto di gioia. Senti, se non vuoi continuare, non farlo. Abuso di lei. E noi eravamo tutti lì, pietrificati dalla paura e dall'orrore. La folla era in delirio. Irupperò altri uomini dai lati del palco. Tutti noi fummo. Mio Dio. Non so dirti quanto tempo sia passato. Eravamo sotto shock. Mi ricordo che il signor Disney era lì, in prima fila, radioso che il suo spettacolo stesse andando alla grande. Lo spettacolo aveva avuto successo. Si decise così di ripeterlo due volte ogni mese. Migliaia di biglietti venivano venduti. A volte si sfiorava tutto il suo rito. Eravamo diventate delle star. E i vostri genitori? Non si sono ribellati a tutto questo? In seguito venimmo a sapere che tutti i nostri genitori furono minacciati di morte se non fossero stati zitti. E gli dissero pure che dopo averli ammazzati avrebbero ucciso anche noi. Così dovevano soffrire in silenzio. Non c'era modo di sottrarsi. Eravamo come imprigionati, sia fisicamente che psicologicamente. Le prime volte cercai di scappare o di tentare il suicidio. Ma riuscivano sempre a fermarti, in qualunque modo. Questo durò per due anni. Finché non avvenne l'incendio. Morimmo tutti, sia noi che gli spettatori. Appena prima di morire provavo una gioia immensa. Finalmente sarei stata libera e non avrei dovuto più rifare questi maledetti spettacoli. E invece ora, come vedi, siamo qui a ripetere questo spettacolo per l'eternità. Per la felicità della folla. Una pena forse peggiore dell'inferno. Ero sconvolto. Non potevo credere alle mie orecchie. Senti un conato salire per il corpo. Vomitai, cabbi a terra. E piansi. Piansi finché non mi si esaurirono le lacrime. Nel frattempo le ragazzine mi guardavano con un'aria triste e malinconica. Con un lieve cenno di sorriso sui loro volti. Come se volessero consolarmi. Che cosa hanno fatto per meritarsi tutto questo? Sono arrivati. Dobbiamo prepararci presto. Disse con voce spezzata annetta alla sua compagna. Le vedi correre e dissolversi verso il fondo del palco. Volevo almeno ringraziarle. Sentì una risata. Poi un'altra ancora. Sentì delle urla. Poi sentì un buato assordante che cresceva sempre di più. Mi voltai. Erano arrivati. Lo spettacolo stava per iniziare. La paura si abbatté su di me. Non potevo vedere. L'avevo promesso anche alle ragazze. Io non dovevo essere lì. Mi alzai tremante. Le gambe non vogliono rispondere al mio comando di scappare. Guardai la fotocamera che impugnavo in mano. Ancora oggi non so con che coraggio abbia potuto farlo. Ma scattai una foto alla platea. Corsi verso l'uscita. Un uomo mi fermò. Aveva la maschera di topolino. Mi invitò a sedermi. Il posto era lì. Così invitante. Non desideravo nient'altro al mondo che sedermi lì. Mi sedetti. Mi pento ancora oggi di averlo fatto. Non ricordo nulla dello spettacolo. L'unica cosa che mi rimane è la foto della platea. Forse riuscirete a individuarmi tra il pubblico. So che ora non potrò mai più staccarmi da questo episodio. Tutto quello che vedo. Tutto quello che sento. Dovrò portarmelo dietro per il resto della mia vita. Ma questa... È un'altra storia. Chissà, forse un giorno ve ne potrò parlare. La mia vita è un'altra storia. La mia vita è un'altra storia.